Sono stato in attesa delle 8.15 per alcuni minuti Poi è arrivato alle 8.15, mi sono distratto con gli uccellini che cantano E siamo partiti alle 8.16, quindi scusate questi secondi di ritardo Aspettiamo di arrivare al nostro magico numero Che ci ha accompagnato in tutte le dirette fino ad oggi Al raggiungimento del quale anche questa sera partiremo Molti mi hanno detto che la diretta fuori fa capire che qualcosa è cambiato Dà serenità, le piante, il venticello, gli uccellini che cantano Ci fa rendere conto che siamo davvero in un'altra fase Rispetto al fare la diretta da una camera al chiuso Quindi le proviamo tutte per fare un po' di morale Allora Siamo a 7.18 Sembrano le aste queste fasi 7.36 Come dire, chi è che offre 7.54 7.70 Ancora un colpetto No, 7.93 Bene, 814 Buonasera a tutti Diario di bordo del giorno 89 20 di maggio Sono praticamente passati tre mesi Tre lunghissimi mesi Come avete sentito Il decreto legge, il DL rilancio È stato pubblicato sulla gazzetta Si chiude così Una fase aperta Mercoledì scorso Con il varo da parte del governo Purtroppo Sembra che questo non basti Ai 266 articoli dello stesso Per produrre da subito effetti O perlomeno in molti casi Se, come riportato oggi dal Sole 24 Ore Quindi fonte autorevole Serviranno ora bene 98 decreti attuativi Poi non capiamo perché il nostro paese Indipendentemente da chi lo governa Quindi non mi riferisco a questo preciso momento storico Continua a perdere competitività Rispetto ad altri paesi Troppo da scrivere e da interpretare È tutto bloccato dalla burocrazia Ma oltre all'inconite su questo ultimo DL Sempre il Sole 24 Ore di questa mattina Una lettura interessante per chi la volesse fare Ci descrive la situazione degli altri interventi Fin qui varati Quindi 5 interventi riforme Che hanno preceduto quest'ultima La ormai divenuta legge 13 del 2020 È il primo decreto emergenza Covid La legge 27 che era il Cura Italia Il decreto legge 19 Che è il decreto sul lockdown Il decreto legge 22 Che è il decreto scuola Il decreto legge 23 Che è il decreto liquidità Prevedono ben 53 atti Per tradurli in pratica Ad oggi, sempre fonte solo 24 ore Sono solo 15 quelli adottati Di questi 53 Ne mancano quindi 38 E il tasso di attuazione è solo al 28% E meno male che abbiamo fretta Guardate, leggo del grido di dolore Di molti colleghi in giro per l'Italia Naturalmente i giornali Soprattutto quelli nazionali Riportano e danno spazio A quelli delle città più grandi È comprensibile Ma la nostra situazione Vi posso garantire che è la stessa Se non ci si metterà Nelle condizioni di avere la liquidità Molti servizi sono a rischio Anche quelli essenziali Qui altro che dindon Qui ci vogliono proprio delle campanone Ma che suonino in tutto il paese Per fare capire qual è la nostra situazione Quella delle amministrazioni locali Quella dei tanti comuni In sofferenza E guardate che gli articoli Comparsi oggi sui giornali Che ho letto per riportarvi Questo grido di dolore Sono, non sono anzi Di Maurizio Rasero Che magari qualcuno potrebbe ancora Accusare di essere di parte Nonostante abbia più volte Dimostrato di avere cuore Solo l'interesse della mia città Di miei cittadini Prendendomela a 360 gradi Quando è ora con tutti Ma sono di sindaci Questo grido che è arrivato oggi Queste lamentele Queste osservazioni Che sono filogovernativi Come Laraggi a Roma Come Sala a Milano Come De Caro a Bari Tutti evidenziano il rischio Dei conti comunali Tutti chiedono risorse O possibilità di allentare I vincoli su accantonamenti O su vari fondi di garanzia Molti paventano la crescita Della tensione sociale Speriamo in bene Mi metto in coda a loro Per manifestare a tutti voi La mia preoccupazione Ciononostante non demordiamo Ce la mettiamo tutta Siamo ancora qui con le dirette Mettendoci la faccia in prima persona A nome dell'amministrazione Di tutti gli assessori Dei consiglieri comunali Che mi sostengono Per dire che faremo del nostro meglio Allora in tutto questo marasma Questa mattina Assieme all'assessore Cotto E al consigliere comunale Garrone Abbiamo incontrato Ernesto Ramoino Presidente della fondazione Anti-usura La Scialuppa La Scialuppa CRT È nata nel 1998 Per iniziativa della fondazione Cassa del risparmio Torino Assista gratuitamente Coloro che si trovano In temporanea difficoltà economica E che non essendo più bancabili Anche a causa dell'elevato indebitamento Sono a rischio usura A questo scopo La Scialuppa CRT Fornisce consulenza e assistenza Per ristrutturare i debiti Rilasciando se necessario La propria fiduio Che permette di saldare Tutte le posizioni Attraverso un finanziamento erogato Dalle banche convenzionate A un tasso agevolato Il richiedente aiuto Deve in prima istanza Contattare la segreteria Successivamente La richiesta viene presa in carico Da un volontario Che gli comunica L'elenco dei documenti necessari Per ottenere un appuntamento Durante l'incontro Viene definita L'intera posizione debitoria È fornita un'adeguata E gratuita consulenza Nel caso in cui La consulenza Non sia sufficiente A portare in salvo La famiglia Se vengono rispettati I requisiti e richiesti Si propone Al comitato di valutazione E poi al consiglio di amministrazione Il rilascio di una garanzia A favore della banca Convenzionata Che erogherà Con autonomia Autonoma e istruttori Il finanziamento Chiudendo tutte Le esposizioni debitorie Quindi Abbiamo incontrato Questa realtà Che lavora Sul nostro territorio Da ben nove anni Qualcuno in questi giorni Mi ha chiesto Di aprire Un ufficio Come questo Presso il comune di Asti Senza neanche sapere Che già da nove anni Esiste una realtà Di questo tipo Una realtà Ben radicata Sul nostro territorio Fatta da volontari Che sono tante volte Funzionari di banca Che sono usciti Che conoscono quindi Molto bene Questa situazione È stato un incontro Molto positivo Ci è stato spiegato Come hanno Dieci milioni di euro Che per effetto Di moltiplicatori Che non vi sto a spiegare Possono arrivare a dare Trenta milioni di euro Di garanzie Per loro Importante Avete sentito Primo parlato Di famiglia Non di singolo Personaggio Di singola causa Per loro Sono le famiglie Quelle che vanno Salvaguardate E la media E la media del 2018 È di 25 famiglie Che hanno incontrato Alla quale hanno dato consulenza E che hanno aiutato Ad uscire Da un momento Di difficoltà In sostanza È Una Attività Soprattutto Di prevenzione Per far sì Che alcune famiglie Che hanno Delle problematiche Non finiscono Nelle Maglie Dell'usura Il dato interessante Molti diciamo In questa situazione Di difficoltà Chissà Quanti problemi E quanti Si rivolgono A strade Non legali E sbagliate Pensate che Di fatto È capitato Il contrario Il fatto Che stiamo Stati chiusi In casa Il fatto Che le attività Si sono fermate Tante cose Messe assieme Ha portato a dire Il nostro Il presidente Che è venuto oggi A parlarci Che negli ultimi Due mesi Di fatto Non c'è stata Attività Che non hanno avuto Richieste Che non hanno avuto Segnalazioni Comunque Noi ci siamo Messi a disposizione Loro Per diventare Un'antenna Sul territorio Così come lo sono Altri soggetti E per fare assieme Loro delle cose Fare Per esempio Dei convegni Cercare di Segnalare loro Persone da aiutare A riguardo Sono entrato Nel tema Dell'usura E dell'attività Che stiamo facendo Per dare delle risposte Ai nostri concittadini Però a riguardo Consentitemi di dire Che è stata Ancora Una volta Spiacevole La strumentalizzazione Dei soliti noti Che invece di Preoccuparsi Di quello che sta succedendo In città E dei problemi Che la città E fra i problemi Potrebbe anche esserci l'usura Con un'azione concreta Come quella di questa mattina Ci siamo posti E ci siamo chiesti Come e cosa Dobbiamo fare Per cercare Di dare delle risposte Però anziché pensare A questi problemi Che dovremo soprattutto Affrontare da qui davanti Vi ho detto da tempo Che se abbiamo superato Una fase sanitaria In questo momento Magari Probabilmente I tempi che ci attendono Non saranno invece Da un punto di vista Economico e sociale Dei migliori Forse sarà ancora peggio Il momento che arriverà Ma Molti hanno colto L'occasione Per legare Cose che non centrano Fra loro E nuovamente Attaccarmi Pensate che Faccio questa premessa E poi ritorniamo A parlare di ambulanti Torniamo a parlare Della situazione Dell'ospedale Parliamo di nuovo Delle cose Che occupano Ma siamo finiti nel tema E quindi consentitemi Di dire per pochi minuti Due cose Nel 2017 Circa 300 candidati A consigliere comunale Su circa 600 Circa la metà Dei candidati Ha deciso di aiutarmi Sostenermi Nella mia corsa elettorale Persone rispettabili E per quanto riguarda Le mie liste Perfettamente in regola Sotto tutti i punti di vista Chi voleva candidarsi Nella mia lista Per esempio Doveva fornire Una serie di certificati Tra cui I carichi pendenti Il casellario giudiziario E così via A distanza di tre anni Una importante operazione Di cui si è parlato In questi giorni Che avete letto Sui giornali Ha condotto A degli arresti Tra cui Uno di questi candidati Che si era candidato E non è uscito Non entro In polemica Mi hanno detto E' attaccato Perché non mi sono Complimentato Per esempio Con le forze dell'ordine Io con le forze dell'ordine Devo complimentarmi Tutti i giorni Sì C'è un'operazione Quindi questa va menzionata E bisogna complimentarsi Ma con le forze dell'ordine Noi dobbiamo complimentarci Tutti i giorni 365 giorni all'anno Per l'attività che svolgono Per le cose che fanno Per l'attività che svolgono Per noi tutti Sovente Magari Correndo dei rischi Importanti Per magri stipendi E sovente Ripeto Facendo più di quello Che dovrebbero Quindi E' certo Che ci vanno i complimenti Per questa Come per tante altre Operazioni Qualcuno E' arrivato A parlare Della mia non uscita A favore della magistratura Ci mancherebbe Se non vengo a dire Mi sembrano Però cose scontate Sinceramente Per una cosa Che non mi sta Toccando Figuriamoci Se non vengo a dire Con piena fiducia La magistratura Che farà il suo corso E che ci darà alla fine Questa vicenda Come andrà a terminare Però Molti hanno Veramente Fatto Ilazioni Sulla lista Che ha candidato Questa persona E collegamenti Con il sottoscritto Con tutta una serie Di riferimenti Che veramente Sono secondo me Ingrati e ingiusti Soprattutto in questo Momento Allora Vorrei Semplicemente Citare E poi la finiamo Davvero qua Un virgolettato Che è uscito Su un articolo Della Stampa Dove Facendo riferimento Agli ambienti Investigativi Il virgolettato Quindi riportava Delle affermazioni Che arrivano Da quegli ambienti Specificava bene Fin dal primo minuto Fin dall'uscita Di questa Indagine Che ha portato All'arresto Importante Di alcune persone Che non vorremmo Dicono Che si facessero Ilazioni Ingiustificate E immotivate Era un candidato Vero Come centinaia Di altri Alle comunali Ma l'inchiesta Non ha nulla A che vedere Con il mondo Della politica Stigiana E del comune Ha nessun titolo E veramente Mi fermo Qua È veramente Offensivo Che si cerchi In un momento In cui qualcuno Non riesce A essere propositivo O probabilmente La mette Sul personale O su un livore Non lo so Buttare Questa vicenda Sono umanamente Dispiaciuto Perché cosa è successo Quel candidato Dopo Quell'esperienza Come sovente Capita a chi si candida In una lista civica Si perde Non frequenta più Non ha dato Suggerimenti Nei programmi Non ha partecipato A riunioni Per cui Teniamo le due cose Separate davvero Lasciamo lavorare Chi fa l'amministrazione In comune E chi si occupa di altro Che faccia il suo corso E chi ci dica poi Come finisce questa Vicenda Ma detto questo Questa mattina Oltre ad aver incontrato Quindi le risposte Si danno coi fatti Avrei voluto incontrare Questa associazione Anti-usura Già la scorsa settimana Il presidente di Torino Ha potuto venire Soltanto giù questa mattina L'abbiamo quindi ricevuto Questa mattina E daremo delle risposte Importanti Così come le abbiamo date Nella nostra amministrazione Fino adesso Per far capire Da che parte ci scheriamo Ci siamo Per esempio Costituiti Come parte Nel processo Verso Nell'operazione Barbarossa Abbiamo più volte Dato segnali Importanti Che vanno In un'unica direzione Quella Della legalità Comprese strumenti Di controllo Che ci siamo dotati Come amministrazione Affinché anche All'interno del comune Tutto possa venire Nella massima trasparenza Questa mattina Oltre a questo Importante Incontro Mi sono recato Al comando Della pulizia municipale Dove vi era già Il vice sindaco L'assessore Bona Con il comandante Saracco Sui collaboratori Per ragionare Sulla ripresa Del mercato Questo è il tema Se mi consentite Più importante Di questo momento Abbiamo centinaia Di operatori Che a differenza Di altri Che hanno potuto Ripartire A lavorare Che sono ancora Rifermi E giustamente Si arrabbiano E giustamente Si chiedono Se le istituzioni Gli hanno dimenticati O no Sono in corso Misurazioni Disegni Di planimetrie Sulle piazze Per verificare Con quali modalità Il prima possibile Nel rispetto Delle norme Riusciremo Ad aprire In sicurezza I mercati Facendo lavorare Persone Che chiedono Soltanto quello Di lavorare Di poter portare a casa La pagnotta Per mantenere La propria famiglia Per non andare A far andare A rotoli Definitivamente Attività Che in alcuni casi Sono decennali Sono storiche Si perdono La notte Dei tempi Alcuni hanno Il banco Lì da 30 anni Da 40 anni Alcuni sono Più generazioni Che fanno Questo mestiere Quindi noi abbiamo Il dovere Di cercare Di tutelare Quelle attività Abbiamo anche Il dovere Però Di far riaprire Un mercato Nella sicurezza Per gli operatori E per i clienti E soprattutto Nel rispetto Di normative Affinché nessuno Venga A bussare La porta Del comune Chiedendoci Spiegazioni Quindi Abbiamo però Le medesime Difficoltà Che hanno altri Comuni Quasi tutti i comuni Della Alessandrina Hanno spostato I mercati Su delle altre piazze Molti comuni Stanno ragionando Come stiamo facendo Noi con gli ambulanti Per cercare Di farli Rimanere Dove sono O di vedere Quali soluzioni Si possono Ma non è facile Perché non potrà Essere il mercato Di prima Ci sarà bisogno Di distanza Fra un banco Piuttosto che Un altro Quindi chiediamo Pazienza A questa categoria Anche se mi rendo conto Che la pazienza È finita Nessuno però Mi metta in bocca Affermazioni Che non ho fatto Io Questa amministrazione Non ha ancora Deciso nulla Siamo nella fase Del confronto Domani ci incontreremo Ancora con gli operatori E la fase di questo confronto A differenza Di una situazione normale Quando non c'era il virus Ci trovavamo Tre ore la mattina Tre ore il pomeriggio Tutta la notte Fino a che non arrivavamo Una soluzione Oggi abbiamo La difficoltà Di parlarci assieme Di far vedere A qualcuno Delle cartine Di avere Incontrandosi come persone Dei suggerimenti E di poter dire Quali sono i problemi A non accettare Tutte le proposte Che ci arrivano In un determinato mondo Però ciò nonostante Organizzeremo domani In sicurezza Con le distanze Incontri anche A piccoli gruppi Adesso Aspetto più tardi Avremo una riunione Anche di maggioranza Dove il vice sindaco Ci dirà Con quali modalità Domani avverranno Questi Il vice sindaco Marcello Coppo Ci dirà Che assieme All'assessore Anche Bona Questa mattina Era presente Con cui ci siamo Dati una linea Quindi speriamo Di accordarci Nella giornata Di domani Con delle proposte Che possono rispettare Tutti i criteri Tutti i protocolli E assecondare Il più possibile Le esigenze Degli operatori Speriamo di accordarci Per poi dire quindi Agli uffici Quali sono gli indirizzi Come procedere Ci sarà da assegnare Di nuovo I posteggi per terra Ci sarà Da assegnare I posti E trovare quindi Magari Dei criteri Che siano oggettivi Che non possono essere Messi in discussione Che non possono pensare Che ho sistemato qualcuno E che qualcuno Possa pensare Quello è finito lì Con il banco Nel posto migliore Perché era amico Del sindaco Piuttosto che di un altro Rispetto all'altro Poveraccio Che non conosceva nessuno E' stato svantaggiato Quindi anche La ricerca Dei criteri Attraverso il quale Andremo ad assegnare Questi posteggi Sarà molto importante Richiede del tempo Perché richiede Il confronto E richiede E mettere tutti d'accordo Io personalmente Conosco molti ambulanti Dovesse dire Nelle scorse ore Ci sono almeno tre posizioni Ci sono alcuni ambulanti Che mi chiedono A me Già che ci siamo Andiamo in piazza Campo del Paglio Tanto ci volevo già andare Mi piacerebbe andare tutti lì Fare un unico grande mercato E questa è la posizione di alcuni Ci sono altri Che mi dicono Noi vogliamo rimanere dove siamo E io dal posto dove sono Non mi voglio muovere Preferisco meno ore Lì dove sono sempre stato Piuttosto che gli orari Che ho avuto fino adesso Ed essere spostato Ci sono terze posizioni Che sono vie di mezzo Ci sono persone Che ci propongono Delle cose Che noi andiamo a verificare E poi magari Certe volte Non trovano corrispondenza Vi faccio un esempio Noi parliamo Oltre al mercato Di piazza Campo del Paglio Che lì in quel caso Ti allarghi finché basta Hai una piazza a disposizione Nel caso di piazza Alfieri Sono da sistemare Una novantina di banchi Fra i 90 e i 95 Più 20, 21, 22 Su piazza Libertà Ieri in una videoconferenza Parlando con il rappresentante Degli ambulanti Di piazza Libertà Lui sosteneva E noi questa mattina Siamo andati a verificare Perché ci mancherebbe Se uno ci dice qualche cosa Che non lo verifichiamo Che dalle sue misurazioni Tutti i banchi Potevano stare nei loro posti Con dei piccoli accorgimenti E noi questa mattina Abbiamo visto Come rispettare le distanze Come creare le corsie Come fare gli accessi Su quei 21, 22 banchi Se noi dovessimo rimanere Su piazza Libertà Potremmo rimanere Con nove banchi Quindi più della metà Di quei banchi Dovremmo comunque pensare Di spostarli da qualche altra parte E allora Con quale principio Qualcuno rimane lì E qualcuno si sposta Il principio Il criterio dell'anzianità O altri criteri Bisognerà ragionare Quindi con loro Per trovare il criterio Attraverso il quale Dire chi rimane Nel posto migliore E chi invece Viene comunque spostato Quindi a ogni proposta Che merita Tutta l'attenzione E ripeto Noi non abbiamo ancora Deciso nulla Ci sono di pro E dei contro Bisogna avere Ripeto Noi non ci nascondiamo La faccia ce la mettiamo Il tempo E purtroppo Questa situazione Non aiuta Perché come ho detto prima Se fossimo in una situazione normale Ci saremmo riuniti Questa mattina E saremmo andati In fiume Tutta la notte Fino a che non ci Non si fosse trovato Un accordo E invece siamo qua Con delle difficoltà Per confrontarci Nella giornata Però di domani Ripeto Incontreremo gli ambulanti E speriamo il prima possibile Di far ripartire il mercato Credo che Verso la categoria Dei mercatali Si possa dire Tutto Tranne che Questa amministrazione Non ha fatto il possibile Per cercare di essere utile E dare una mano Mi ricordo le critiche Che mi sono piovute Addosso a me Al vice sindaco All'amministrazione in generale Nel momento in cui Abbiamo deciso Contro l'opinione pubblica Che dovevamo aprire Il mercato alimentare Io sono ancora contento Adesso di quella scelta Perché penso Che l'aver consentito A centinaia Migliaia di persone Di andare a comprare In una situazione controllata Con gli ingressi contingentati Con le code regolari Con due massimo persone A banco All'aperto Sicuramente Ha fatto sì Che ci sia stati Meno contagi Che andare in centinaia Dentro strutture al chiuso E uno sopra l'altro E avvicinati Per cui Così come Abbiamo con forza Cercato di difendere Questa categoria E di andare contro L'opinione pubblica Per farla ripartire A lavorare Cercheremo Allo stesso modo Nel rispetto delle normative Di essere vicino Anche agli ambulanti Del non alimentare Da oggi Ha aperto Il movicentro Non sono riuscito a dirlo Lunedì Mi sono dimenticato Il foglio Mi è volato via Siamo qua all'aperto Come rischiano di volarmi via Adesso dei fogli Però Lunedì Avrei dovuto dirvelo Ve lo dico A cosa venuta Da questa mattina Anche i privati Possono andare al movicentro Ritornato a essere Quello di prima Aperto Per poter portare Le cose Sperando che invece Non ce le buttiate In ogni angolo In ogni dove Come sovente È successo A chi dice Ve l'hanno buttata Nei fossi Perché non c'era L'ecocentro aperto Cattiva amministrazione Faccio Una per macchia Dicendo che era Una legge Che non mi consentiva Di tenere aperto L'ecocentro Abbiate pazienza E che quindi Ho dovuto cercare Di fare il massimo Ci siamo anche inventati Per i privati Un servizio Dove telefonavi Venivano a casa A prenderti la roba E te la toglievano Te la portavano loro Allo smaltimento Se poi c'è qualche Maleducato Qualche zozione Ripeto Sono pochi casi Però purtroppo Lo vedete anche voi Ci sono Che se ne fregava di questo E io non posso essere lì Con il mitra A controllare Anche tutte queste cose Credo che ce la stiamo Già mettendo tutta Per vedere cose Anche più importanti Non abbiamo bisogno Che ci sia qualcuno Che remi contro questo punto E che disprezzi Ma non l'amministrazione L'amministrazione Dite quello che volete Dite che il sindaco Non va bene Fra due anni Avrete la possibilità Di cambiarlo Dite che l'amministrazione Sta sbagliando In tutte le cose Però fatelo Per voi stessi Io penso Che buttate Dell'immondizia Da qualche parte Tutte le volte Che ci passate davanti Te lo avete buttata E la vedete Penso che faccia schifo Il posto rispetto A avere tutto pulito E compagnia bella Quindi se non Per l'amministrazione Fatelo per voi stessi Per i vostri familiari Per i vostri figli Che crescono In un ambiente migliore Da domani Riapre la pista Di atletica Quindi A seguito Quindi Quindi una notizia sportiva A seguito Dell'emanazione Del decreto Della regione Piemonte Numero 57 Del 17 di maggio Che permette La riapertura Degli impianti Centri I siti sportivi Dove praticare Sport individuali All'aperto Lo sport riparte Con l'apertura Da domani 21 maggio Della pista di atletica In via Gerbi La fruizione Della sola pista di atletica È consentita Agli atleti Per lo svolgimento Degli allenamenti Degli sport individuali Con ingresso contingentato E ai privati cittadini In possesso di apposita tessera Dal lunedì al sabato Dalle 8.30 alle 19 In questa prima fase Di apertura Non sarà possibile Utilizzare gli spogliatoi E tutte le strutture Posizionate nell'area verde Circostante la pista A tutti i fruitori del campo Chiediamo la massima collaborazione Nel rispetto delle misure di sicurezza Mantenendo il distanzionamento sociale Di almeno un metro Di non sostare All'interno dell'impianto Oltre il tempo Strettamente necessario Allo svolgimento Dell'allenamento Di non abbandonare Fuori degli appositi contenitori Guanti, mascherine Fazzoletti Eccetera Quindi Certi che tutti gli atleti E fruitori della struttura Sappiano dare un segnale importante Nel rispetto delle regole Lo sport può ripartire Lo diremo domani Assieme all'assessore Allo sport Mario Bovino Nel tavolo sullo sport Questo secondo incontro Con tutte le associazioni Le palestre Le federazioni Il CONI Mi scuso Con La vigna Saracco Che non è stata invitata Nella prima riunione Che abbiamo fatto In realtà Non abbiamo fatto noi gli inviti Noi in sostanza Abbiamo ricevuto Da un gruppo di associazioni Una richiesta di convocazione Abbiamo naturalmente Risposto affermativamente Tutti quelli che lo sono venuti A sapere Che ci hanno chiesto Di partecipare Gli abbiamo dato Il portale Per partecipare Alla fine Quindi Tutti quelli Che anche Non avessero provveduto prima E fra stasera E domani mattina Vogliono mandare una mail O domani mattina Telefonare all'ufficio sport Dicendo Vorrei partecipare Alla riunione Non c'è un numero limitato L'altra volta Eravamo forse più di 50 Domani saremo probabilmente di più Però è una cosa aperta a tutti Da più persone Arrivano degli spunti Dei suggerimenti Magari anche critiche Se sono costruttive Non si può che migliorare Abbiamo bisogno Che anche lo sport riparta Abbiamo bisogno Che ci diciate Come l'amministrazione comunale Tante volte Con poco Può invece darvi Dei grandi vantaggi Nel aiutarvi A ripartire E a fare la vostra attività Un'altra comunicazione Invece ci arriva Per le iscrizioni online Notizia che avevo già dato In precedenza Ma che ricordo Il Comune di Asti Ha avviato Nelle scorse settimane Le iscrizioni In nidi comunali Al trasporto scolastico Con scuola bus E al trasporto scolastico Collettivo speciale Attraverso le nuove procedure online Per la presentazione Delle domande Possono essere utilizzate Le credenziali Speed Sistema pubblico Di identità digitali Che permettono Di accedere a tutti i servizi Online Della pubblica amministrazione Oppure collegandosi Sul sito del Comune di Asti Anche qua Nell'apposito Spazio Chi non potesse Provedere da sé Alla compilazione Della domanda Potrò arrecarsi Presso gli sportelli Dei CAF di Asti Convenzionati con Il Comune di Asti Settore politica e sociale Istruzioni Servizi educativi Previo contatto telefonico Per avere un sostegno Alla compilazione Della domanda L'assessore Elisa Pietragalla Mi ricorda Mi chiede Di ricordarvi Che l'iscrizione In nidi comunali È possibile Fino al 30 maggio 2020 Dopo tale data Sarà ancora possibile Presentare solamente Le istanze di iscrizione Le stesse verranno Inserite fuori gradatoria Mentre iscrizioni Al trasporto scolastico Con scuola bus E al trasporto scolastico Collettivo speciale È possibile Fino al 26 di giugno Fare domanda Passiamo ora Ancora prima dei dati Poi ci sono i dati Andiamo poi in chiusura L'Inail Oggi si è pronunciato Il datore di lavoro È responsabile Solo in caso Di oggettiva Violazione delle norme Una cosa Su cui Mi ero battuto Nei giorni scorsi Avevo dato il mio punto di vista Posso quindi dire Che finalmente C'è In questa Su questa cosa Una buona notizia Ha prevalso Il buon senso I numeri Mi sono dimenticato Due giorni fa Lunedì Di dare i nati Di sabato e domenica Quindi adesso vi do Una sfilza di nati Sabato al Massai È nato un bimbo Domenica ne sono nati due Lunedì Udite Udite Sono nati dieci bimbi Ieri è nato un bimbo Quindi in questi Quattro giorni Sono la bellezza Di quattordici nati Notizie tutte positive Vi do anche Come altra Notizia positiva Il via in Piemonte Alla banca regionale Del plasma Quindi è iniziato Ufficialmente oggi In Piemonte La raccolta del plasma Per la cura dei pazienti Affetti da coronavirus La sperimentazione Già avviata Nelle scorse settimane A Torino e Novara Parte ora Su tutto il territorio Piemontese Parlando con Messori Iori Il commissario Della nostra Aslogi Mi ha confermato Che ha dato la disponibilità Anche del nostro ospedale A partire in questo senso Il protocollo È stato provato Dal centro nazionale sangue Ed è finanziato Dalla regione Piemonte Relativamente Al coronavirus Ancora in Piemonte C'è il via libera Della regione Piemonte E i test sierologici Sugli agenti Delle forze Dell'ordine Quindi L'iniziativa Coinvolgerà complessivamente Circa 20.000 persone Su base volontaria Il test è mirato Alla ricerca Degli anticorpi IgG Indicativi Del possibile Contatto con il virus Chi risulterà positivo Verrà sottoposto Al test molecolare Cioè il tampone Per la formulazione Della diagnosi Di positività O negatività Al covid-19 Ora arriviamo Alle notizie Invece dell'ASL Prima dei numeri Vi dico che Solo più 88 pazienti Positivi all'ospedale Nel picco Vi avevo detto Eravamo andati Intorno ai 188 Qualcosa in più Qualcosa in meno Ogni giorno Sembra che 7-8 Scenda di 7-8 Questo numero Qualcuno È stato mandato A Torino Il grosso È stato mandato E continua A essere spostato Sulla San Giuseppe Qualcuno Nel rispetto Dei protocolli Di sicurezza Viene fatto tornare Dalle RSA Che naturalmente Rispetteranno Tutti i modi Di trattare La persona Che ritorna E ci mancherebbe Vi avevo detto Che entro il fine Erano 5 L'ultimo collegamento Le persone In rianimazione Che entro il fine Settimana Sarebbero scesi A 3 Sembra che Ne sia anche Un'altra persona Che potrebbe essere Riemesso E quindi Nella giornata di domani Potrebbero addirittura Scendere 2 Le persone positive In rianimazione In questo momento Quindi il messaggio È di tenere duro Tenere duro Perché i dati Che arrivano oggi Ieri abbiamo detto Da 1751 Di lunedì Siamo arrivati A 1753 Di martedì Oggi 1758 Quindi ci sono 5 positivi In più di ieri Ieri 2 in più Del giorno prima In due giorni 7 I decessi Ieri abbiamo festeggiato Nessun decesso Oggi purtroppo Da 2.19 saliamo A 2.21 Facciamo quindi Le condoglianze A due famiglie Che non hanno più Un loro caro Che l'hanno perso In questo triste momento I Invece Guariti Che Lunedì erano 4.95 Sono saliti A 5.19 Ieri Più 24 E a 5.54 Questa sera Più 35 Allora Arrivano in questi giorni Da tutte le parti Dati confortanti Non facciamoci illudere Questi dati Confortanti Sono quelli Che rispecchiano Restrizioni E comportamenti virtuosi Di 10 14 giorni fa Da lunedì Che siamo iniziati A girare Sembra che sia Una festa Fortunatamente Io vedo tanta gente Con la mascherina Fortunatamente Vedo tanta gente Che si mantiene distanziata Che si comporta Come si deve comportare Però gli effetti Di queste aperture Le vediamo Fra due settimane Allora Ringraziamo Di essere potuti Tornare A un minimo Di normalità Alcuni Non ancora Perché come sentite Ci sono ancora Delle attività chiuse I bar e ristoranti Potranno pienamente Aprire Anche se con limitazioni A partire da sabato Però Veramente Controlliamoci È necessario Ancora tenere duro Perché se riusciamo A mantenere questi livelli Anche in questi primi giorni Di riaperture E mantenere questi livelli Fino alla fine Del mese di maggio È molto probabile Che gli astigiani Si potranno fare Un'estate tranquilla Con nessuna preoccupazione Con la possibilità Di uscire Di fare Un minimo Di vita sociale Che facevano prima Non vanifichiamo Gli sforzi Fatti fino adesso Io vi ringrazio Dell'ascolto Auguro tutti voi Le vostre famiglie Una buona serata Rinnovo l'invito A condividere Questa diretta Finché altri Fra i vostri contatti La possono vedere Ci vediamo Come abbiamo detto Venerdì Dopodomani Alle 20 e 15 A meno che Non venga fuori Qualcosa di sensazionale Per cui In modo straordinario Convoco Un'altra diretta domani Se no Ripeto Se non capita niente Arrivederci a tutti A venerdì Alle 20 e 15